Torino ha il problema della sua mobilità ma anche il problema di tutti quelli che da fuori vengono a lavorare a Torino, a scuola a Torino, che sono tanti, sia i ragazzi ed è importante per Torino perché questo chiaramente aiuta anche l'economia se c'è mobilità verso un centro importante come è il nostro capoluogo di città metropolitanea e di regione. Perciò tutte queste le azioni principali per noi sarebbero quello di avere più collegamenti soprattutto di sera e magari nei giorni festivi per i giovani, la reattivazione della stazione di Madonna della Scala e la possibilità di avere qualche finanziamento per le piste ciclabili. Chiaramente un piccolo comune da solo queste cose non le può fare, può dare un contributo ma non può fare tutto quanto.